Allora, questo video non è per tanti. Dunque, ragazzi, non è niente di che, però è un'informazione che voglio dire a tutti coloro che vedranno questo video. Allora, è anche dura convincere la gente a dire quello che ho da dire, perciò comincio. Sapete che ho postato un post sulla bacheca di YouTube sul mio canale, in cui per l'ennesima volta vi dico che sto guardando una serie TV bellissima. Che ti prende proprio, non lo so. Io sinceramente non pensavo di vedere una serie del genere. Ripeto, sto vedendo il dottor Ali, che va in onda su Real Time ogni sabato alle 21.30. Ragazzi, è una cosa stupenda, proprio ti tiene attaccato. Ti tiene attaccato, dura due ore. Ripeto, dura due ore. Che per me due ore è tantissimo. È tantissimo per un episodio, ogni episodio dura due ore. Però, il bello di questa serie, è che non ti stanca. Non ti stanca nel minimo sforzo. Perché proprio ti entra proprio. Ti entra proprio. Dunque, quello che voglio dire, quello che penso, penso che non penso di convincere tanta gente, non penso di convincere tanta gente, perché ognuno può fare quello che vuole. Per carità, ognuno ha i suoi gusti, di serie TV. Però questa serie deve essere condivisa, condivisa da tutti. La maggior parte della gente che piace commuoversi, che piace commuoversi. Perché questa serie deve essere immerso, deve essere... Anzi, per vedere questa serie, bisogna entrare nel sentimento. Bisogna non guardarla perché bisogna guardarla e basta. No. No. Non bisogna vedere questa serie per il gusto, perché viene consigliata, perché è consigliata ovviamente. Però non è perché la deve vedere, perché è obbligatorio vederla. Però, per chi vuole vederla, deve avere un minimo di sentimento. Di sentimento. Perché è difficile trovare certa gente che guarda le serie TV, però... Sì, è bella, però... Diciamo, pensavo meglio. Per carità. C'è... C'è anche di quelle persone che... Non entrano proprio nel... Nelle scene, nel... Però... Però vi dico, vi dico, ragazzi, io... Mi conoscete qua su YouTube? Qua su YouTube? Vabbè. Mondo virtuale. Perché YouTube è mondo virtuale, come tutti i social. Però... Sapete che io... Mi commuovo facilmente. Non lo so, ho... Ho una cosa emotiva, che quando vedo una cosa... Che quando vedo una cosa... Penso... E... Ragazzi, vedendo questa serie... Non puoi fare altro... Non puoi fare altro... Che... Comuoverti. Comuoverti. Oppure... Hai quel... Hai quella... Hai quel... Magogno di... Quel... Magone... De... Eh... Vabbè, l'avete capito? Ragazzi... Non è... Non è una tipica... Serie TV... Eh... Fata a caso... Non è una serie TV... Fata a caso... Perché ci sono tante serie TV... Che possono andar bene... Per un certo pubblico... Che... Guarda... Le puntate, però... Eh... Troncono... Sul tibello... Per chi vuole... Per chi... Ha piacere di seguire... Certe serie... Però questa... Questa qui... Questa qui ragazzi... Dura due ore... Però non... Non te ne accorgi... Che... Che è passata due ore... Perciò... Dunque... Ragazzi... La vedete... La vedete... Su... Real Time... O Real Time... Ovviamente... Però... Una volta al sabato... Una volta al sabato... Alle 21.30... Però... Per chi vuole... Ricuperare... Le puntate... Andate su... Sul... Mio post... Su YouTube... Oppure... Ve lo dico direttamente... Andate su... Tocchi... Video... Ok? Andate su Google... E scrivete... Tocchi video... Eh... Andate... Sul secondo risultato... Dovete scritto... Tocchi video... Serie... Poi scrivete... Sopra nella barra di ricerca... Dottor... Ali... E lì... Cliccate... Andate verso il basso... E ci sono tutti gli episodi... Bene... A posto... Ragazzi... Però... Però... Bisogna essere emotivi... Bisogna essere emotivi... Per vedere una serie del genere... Perché si parla di... Nel mondo del... Della medicina... L'ospedale... Però... Su... Sul post... Ho scritto... Un pochettino... Un pochettino la trama... Dunque... Per chi è interessato... Io... Non vi dico... Andate subito a vedere... Perché... Perché... Sennò... No... Io vi ho... Io vi ho informato... Di questa serie... Io sono molto contento... Di vederla... Sono molto contento... Di vederla... Però... Però... Non guardo... 3-4 puntate al giorno... Perché... Sennò... Vado... Vado... In... 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 Però... Diciamo... Un giorno... Alla sera... Cioè... Ogni... Ogni volta alla sera... Mi guardo una puntata... Però... Ragazzi... Ogni puntata... Ogni puntata... Preparate i fazzoletti... Preparate i fazzoletti... Comunque... Maggiormente... Le donne... Anche gli uomini... Però... Dopo... Per carità... Bisogna essere... Il petto emotivi... Eh... Bene... Questo è quello che... Quello che... Quello che volevo dire... Però... Ragazzi... Eh... Le puntate... In totale... Sono... 64... Sono 64... Dunque... Se andate su Toki Video... Sono... Sono arrivati... Eh... Alla puntata... 22... 22... Ok... Però... Ragazzi... È... È ancora lunga... È ancora lunga la storia... È... È... È ancora... C'è ancora... C'è ancora... C'è ancora tanto da dire... È... Però... Non vi dico niente... Non vi dico niente... Non vi dico niente... Perché... Ogni personaggio... È caratterizzato... È caratterizzato... In maniera... Sublime... 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 Però... Ragazzi... Cosa... Cosa... Cosa volete che vi dica... Cosa volete che vi dica... Eh... Guardatela... Guardatela... Mi raccomando... C'è anche... C'è anche una pagina Facebook... Di... Il Dottor Ali... Ragazzi... Sta crescendo questa pagina... E io sono contento che... Certa... La gente... No... Certa gente... La gente... Dà una possibilità a questa serie tv... Peccato... Peccato che... Non è tanto pubblicizzata... Perché è sul real time... Non è perché è il real time... Non è... Però... Però... È poco conosciuta... E... Non è perché... La dico io... Che bisogna... Eh... Far alzare gli ascolti... Però... Merita... 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 No però... Merita... Merita una guardata... A questa serie... Perché... Perché... Ne vale... Ne vale veramente la pena... Ragazzi... Ripeto... Andate su Tocchi Video... Eh... Scrivete... Eh... Dottor... Eh... Sì... Dottor... Dottor Ali... E... Mi dite... E... Come... E... Vedete una puntata... Vedete il primo episodio... E dopo... Ragazzi... Se volete commentate... Commentate... E se volete anche... E iscrivervi al... 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 Facebook... Di... Dottor Ali... Va bene... Ragazzi... Lasciando perdere il calcio... Lasciando perdere il tutto... È una... È una cosa che volevo... Eh... Condividere con voi... Va bene... Non lo so per chi... Se... Vedrà questo video... Eh... A chi interesserà... Io vi dico... Eh... Guardatela... Punto... C'è niente da dire... Guardatela... Perché... Ok... Va bene... Ciao ragazzi... A posto... Niente... Vada... Mi importa... Ciao ragazzi... Fantastica... Fantastica... aspettico... Sì...